collaborativa, disponibile e volente rosa. Per me non è solo una scuola, o meglio la scuola dei miei figli. A me piace più definirla come una loro seconda casa. Voglio riprendere l'attività di grande collaborazione che ho iniziato a marzo, quando sono entrata a far parte del sociale. Io credo molto nel lavoro in team e a settembre voglio proprio continuare in questa direzione. Io iscrivo i miei figli al sociale perché è una scuola d'eccellenza orientata all'internazionalità e dove la crescita personale è un obiettivo fondamentale della scuola. Grazie. 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 Grazie.